Con il difensore bianconero Emilio Derna, Emilio, prime due settimane di lavoro, quali sono le sensazioni? Sì, venivamo da un lungo periodo di inattività, purtroppo sapevamo che non sarebbe stato facile ripartire. Vedo grande impegno da parte di ragazzi, da parte di tutti, però purtroppo questa situazione è molto anomala. Infatti giocare due partite così importanti, preparandole così poco, è veramente un rischio per tutti. Credo sia stata fatta veramente una cosa tutta italiana, perché è come un levarsi dai problemi. Però noi lo affrontiamo con il massimo impegno, perché comunque è il nostro lavoro. Però credo che non sia stata fatta una cosa corretta, anche nei confronti delle squadre retrocesse con dieci partite ancora da giocare. Secondo me non è stato giusto questo, non è giusto neanche preparare i play-out in questo modo. Senti Emilio, l'impatto con il nuovo mister catalano è subentrato al posto di Masi due settimane fa? Sì, noi ci trovavamo molto bene con mister Masi, però la società ha fatto questa scelta qua perché comunque non arrivavano i risultati. Il mister è venuto con grandissimo entusiasmo, come lo siamo noi, ma in questo momento il mister può fare veramente ben poco, perché comunque il tempo a disposizione è così poco che credo possa fare veramente poco. Ognuno di noi sappiamo quando ci teniamo al nostro lavoro, quindi daremo il massimo e anche qualcosa in più. La condizione atletica è quella che conterà molto l'aspetto mentale? Sì, basta vedere le partite di Serie A che sono partite anche un mese prima, le partite durano 45 minuti, forse alcune anche meno. Quindi sicuramente non sono partite vere, non ha niente di calcio in questo momento e quindi secondo me ti ripeto un'assurdità tutta italiana questa che sta accadendo in questo momento. Però per rispetto anche del nostro lavoro soprattutto e del nostro futuro e delle persone come la nostra società, il nostro presidente che si è comportato sempre bene. Quindi noi rispetteremo la nostra professione e cercheremo di dare il nostro massimo e anche qualcosa di più. Per concludere, un primo bilancio di questo tuo primo anno un po' diciamo anomalo, primo anno di Serie C, poi di tutte le situazioni legate al coronavirus, un tuo bilancio personale di questa annata o la pianese? Io sono un calciatore e bilancio li lascio fare agli altri sinceramente. Sono stato veramente bene perché con i ragazzi si è creato un bel rapporto e la cosa che mi fa piacere è che come ogni anno sono stato me stesso, non sono cambiato in piazze magari dove c'erano pressioni, non l'ho fatto qua in cui ci sono persone con cui ci si può parlare. Sono sempre stato me stesso e sono orgoglioso di essere come sono. Poi i bilancio li lascio alle altre persone.